Ciao a tutti, domani c'è una partita importantissima per la Reggiana, che è Fermana-Reggiana, a Fermo, alle 17.30. Perché è importante vincere? Beh, prima di tutto è importante portare a casa i tre punti per tenere accesa la speranza, la speranza di recuperare qualche punto al Modena, già da domani, speriamo, ma soprattutto per andare alla fine del campionato. Non è facile, non è assolutamente facile, perché il Modena è una bella squadra e ha tutti i mezzi per fare bene. Chiaramente però non ci si può buttare giù e bisogna fare il proprio dovere, il proprio dovere è necessariamente la vittoria. La vittoria che dovrà essere fatta domani, ma soprattutto con l'Entella e anche con il Teramo a Teramo. Domani la squadra non avrà, la squadra della Reggiana, non avrà Rozzio e Cigarini che devono scontare un turno di squalifica e verranno sostituiti Cigarini da Fausto Rossi e molto probabilmente Rozzio da Cremonesi. Assente anche a Righini per l'infortunio, che però sembra più lieve rispetto a quello che era data dalla prima impressione, pare che forse rientrerà Righini con il Teramo per l'ultima giornata e molto probabilmente verrà sostituito domani da Rosafio. Molto probabilmente ci sarà a sostegno di Fausto Rossi anche Scialdone dal primo minuto. Quindi, cosa dire, domani ci si gioca molto, la Fermana certamente non è una squadra che passeggerà per il campo perché ci tengono a vincere, perché sono a 35 punti, sono in zona play-out e chiaramente come i play-off, i play-out sono imprevedibili e di conseguenza credo che si giocheranno tutto il possibile, ma d'altronde, per fortuna, anche il Modena contro Dimolesi avrà delle difficoltà perché anche Dimolesi, a dispetto della Fermana, si gioca addirittura di più perché può essere recuperata dal Grosseto che è all'ultimo posto e quindi chi arriva all'ultimo posto sappiamo che viene direttamente retrocesso in Serie D. Quindi la Leggiana dovrà impegnarsi al top, essere concentrata, essere presente sul campo sia dal primo minuto, soprattutto dal primo minuto in modo da poter portare a casa i tre punti, insomma dare la possibilità di sperare, insomma di raggiungere il Modena fino all'ultima partita. Niente, ci vediamo domani dopo il post partita, sperando che insomma sia un post partita felice. Ci vediamo domani, ciao a tutti!